I residenti della zona della Foscherara che ai Tg raccontano la paura per la salute e la sicurezza dei adulti e bambini. La zona verde è dietro via Benedetto Marcello Romana Boscaglia, pericolosa anche perché ne approfittano i delinquenti. Della vicenda si è interessato anche il consigliere del quartiere Savena d'Insieme, Bologna, Nicola Stanzani.